Mi piace l'immagine del viaggio per il raggiungimento della sostenibilità perché di un viaggio si tratta avventuroso pieno di insidie ma necessario perché non stiamo parlando di una moda ma di un cambiamento culturale che sta avvenendo se anche la Presidente Lagarde ha deciso di introdurla nella revisione strategica gli obiettivi di climate change. Noi a Semana già abbiamo un ruolo importante perché possiamo esercitare un'influenza sui comportamenti delle società e dei governi in cui investiamo e le tappe sono almeno 17, quelle del raggiungimento degli obiettivi sostenibili dove l'inclusione che è importantissima e non è solo un'inclusione di genere perché è anche un'inclusione culturale e un'inclusione sociale che rappresentano le fondamenta per costruire un mondo migliore.